In questo momento più che mai riteniamo che la sicurezza personale sia davvero importante. Ecco perché abbiamo realizzato le mascherine di prossima fermata liscio e di Country Live, il nostro programma di Country personalizzate col nostro logo. Vedete che bellissimi colori, sono realizzate da un'azienda italiana, c'è il marchio, e sono duble fassa, per cui potete utilizzarle sia da un lato che dall'altro. Ovviamente non sono un presidio medico, servono per tutelarvi personalmente, ma visto che dobbiamo portarle, perché non farlo con estrema allegria? Vedete che bellissimi colori, sono state realizzate appositamente pensando alla musica e al ballo, e la musica e il ballo sono colorate. Il prezzo di una mascherina sono 7 euro più le spese di spedizione, ma se voi ne prendete 5, le spese di spedizione le paghiamo noi. Quindi con solo 35 euro vi arriveranno a casa queste bellissime mascherine, che ripeto potrete utilizzare sia da un lato che dall'altro, in base al vostro umore, l'umore della giornata. Indossiamo sicurezza con un pizzico di colore, e chissà che nel vedere il nostro logo non vi scappi un sorriso. Aspetto le vostre telefonate. Aspetto le vostre telefonate. Grazie a tutti.